Allora, lo facciamo un applauso e benvenuti ancora a questo Open Lab? Buonasera a tutti e benvenuti davvero. Allora, intanto volevo ricordare e ringraziare a tutti coloro che ci seguono sulle nostre pagine social, che qui è una diretta ed è social, lo ripeto. Oggi è anche, tra l'altro, trasmessa su RTV Italia e io con l'occasione voglio ringraziare Carmine Donato Pelusi, che è il produttore di questa web tv. Un applauso anche a lui. Grazie, grazie mille a tutti sempre di esserci, perché ci seguite, perché siete in tanti, perché cresciamo e cresciamo con voi.